Come band, come ro band, quello che volete, alla batteria, il grandissimo Luigi Colombo Al basso, è tanto che non lo vede, è solo vent'anni che ci vediamo, mio marito, Beppe Viganò Alle tastiere, l'unico, il solo, l'uno, il crino, il quale riesce a fare tutto con due mani, Sergio Giudici Poveri, ma che bel ciupo che ti sei fatto stasera Alla chitarra, Riri E la Betty, la nostra voce Oh, grazie a Vivitalia, il nostro sponsor, che è qui, sta a essere il signor Vittorio, eh, ciao Oh, grazie a Vivitalia, il nostro canale Sì 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 Sì